Il coordinamento FRI raccoglie una trentina di associazioni di categoria di imprese da sempre impegnate a collaborare con il pubblico nella definizione della conoscenza e di una visione condivisa del sistema energetico. Viviamo in una fase di grandissima trasformazione del sistema energetico da un modello che ha 150 anni basato sulle fonti fossili, su grandi produzioni concentrate, rete di distribuzione e andiamo verso un sistema di fonti rinnovabili diffuse e distribuite sul territorio, un sistema di efficienza energetica e di risparmio necessario, ora che è finita l'epoca dell'energia a basso costo, in un mercato liberalizzato e aperto alla globalizzazione. Quindi se conoscere è sempre stato fondamentale per governare i processi, per trasformarli, oggi è diventato indispensabile, indispensabile conoscere quello che fanno milioni di operatori, che siano consumatori che siano operatori economici. Purtroppo noi non abbiamo ancora un sistema perfettamente in grado di monitorare e di fornire le informazioni necessarie, però la buona notizia è che abbiamo gli strumenti, le tecnologie e le risorse per farlo e le imprese del settore privato sono disponibili e pronte a collaborare per formare una visione condivisa.